Da pochi giorni Google ha esteso la nuova versione di Search Console a tante altre persone e appena avrò l'occasione di provarla farò un tutorial. Sono molto contento perché dai primi screenshot che ho potuto vedere c'è una nuova funzionalità che chiedevamo da anni, abbiamo fatto un sacco di tutorial e tantissime lezioni, però quel risultato si poteva ottenere solo integrando più strumenti. Si tratta delle informazioni riguardanti le pagine indicizzate, quello che dicevamo, che cosa ce ne facciamo del numero di pagine indicizzate? È un numero inutile, a noi interessa sapere quali di quelle pagine indicizzate non portano traffico organico e perché. Spero di fare presto un tutorial. Intanto però veniamo alle 7 domande per migliorare subito il tuo sito web. Sono passati circa 10 anni da quando ho letto per la prima volta il libro di Steve Krag, Don't Make Me Think, eppure è sempre così attuale, al di là poi delle varie edizioni che sono uscite. La sua attualità non sta tanto nei concetti che esprime, ma nella mancanza di questi concetti nelle nuove generazioni di professionisti che si approcciano a internet. Con questo video voglio estrapolare 7 domande che per me sono molto importanti e che ci aiutano subito a migliorare il nostro sito web. Abbiamo martellato in questi anni così tanto nel far capire che migliorare la UX porta dei risultati anche da un punto di vista SEO che citare Don't Make Me Think non dovrebbe sconvolgere nessuno, anzi dovrebbe essere uno dei primi libri da leggere. Premesso che potete trovare qualsiasi altra domanda, poi ogni settore ha le sue, una cosa molto importante non è fornirvi una lista di domande, ma quello di stimolarvi un approccio diverso e nel farlo vi invito a rispondere a queste domande sia da desktop che da mobile. Le domande che sto per farvi, che riguardano la home page del vostro sito, sono divise in due fasi. La prima fase è quella del primo approccio, ovvero sono arrivato sulla home page di un sito che non avevo mai visto e mi pongo quattro domande. Cosa è? Cosa c'è qui? Cosa posso fare? Perché dovrei essere qui e non altrove? La seconda fase è rivolta all'interazione, ovvero ho deciso che voglio restare all'interno di questo sito, voglio quindi iniziare a interagire, mi pongo tre domande. Da dove cominciare se voglio effettuare una ricerca? Da dove posso iniziare se voglio farmi un giro? Dove sono le cose migliori? Allora cerchiamo di contestualizzare queste domande con un sito, così facciamo un esempio pratico e prendiamo ad esempio Amazon. Lo so che lo conosciamo tutti, ma appunto perché è uno dei migliori siti, vediamo come risponde a queste domande. Io per questa volta lo farò da desktop e da slogato. Vediamo quindi di rispondere alle prime quattro domande della prima fase. Cosa è? Allora possiamo vedere che c'è un carrello, delle offerte e nonostante io sia slogato riconosce dove sono, mi dice di accedere, mi parla di ordini e mi dice che ho zero prodotti nel carrello. È un e-commerce. Cosa c'è qui? Se guardiamo bene ci sono le categorie in evidenza e quindi più o meno so che troverò tecnologia, libri, abbigliamento. So cosa c'è senza bisogno di interagire. Cosa posso fare? Approfittare delle offerte, iscrivermi, scaricare le applicazioni mobile, fare una ricerca. Forse sono un po' troppe, però diciamo che di call to action ce ne sono. Perché dovrei essere qui e non altrove? A questa domanda secondo me Amazon non risponde nei migliori dei modi oggi, perché è Amazon. Cioè ha creato un brand fortissimo i cui valori sono, secondo loro, riconosciuti da tutti. Ma dobbiamo ricordarci che noi stiamo facendo l'analisi fingendo di essere un utente che non conosce quel brand, non conosce quel sito. Quindi mi raccomando, quando ci mettiamo nei panni di un utente nuovo che non conosce il nostro sito e ci facciamo queste domande, bene, a questa ultima dobbiamo porre molta attenzione. Ovviamente il modo per scoprire i valori di Amazon sono quelli del passaparola e dell'esperienza, ovvero provare proprio l'esperienza di acquistare su Amazon. Un accenno a questo Amazon lo fa con lo slider, quando mostra quello di Prime, io gli slider li odio, e parla delle consegne. Si potrebbe sicuramente migliorare. Ma passiamo ora alla seconda ed ultima fase, quella dell'interazione, e poniamoci quelle tre domande. Da dove posso cominciare a fare una ricerca? La ricerca è piazzata bella in alto, in grande, non c'è dubbio, e la ricerca è quella cosa che dovrebbe esserci in tutti i siti del mondo. No, ma io non la utilizzo perché il mio sito è abbastanza chiaro. Mettete un motore di ricerca interno e vedete cosa cercano le persone all'interno del vostro sito. Dove iniziare se voglio farmi un giro? Come potete vedere ci sono le categorie per questo e altre sezioni subito in basso. Direi che anche a questa domanda Amazon risponde molto bene. Dove si trovano le cose migliori? Ci sono le offerte in evidenza, ma siccome su Amazon c'è tutto, questa parte è veramente difficile da promuovere se non entrando nelle categorie. Una volta entrati, infatti, ci sono i nuovi arrivi, le offerte, gli oggetti più venduti. Queste sette domande sono molto importanti e abbiamo visto come Amazon risponde. Vi sfido a fare questo giochino con il vostro sito, inventandovi anche delle domande nuove che pensate che possono essere utili, addirittura utili per il vostro settore, perché in questo caso Amazon è un e-commerce. Non sarà mai una lista di cose a fare la differenza, ma l'approccio e la visione che svilupperete guardando i siti internet. Per un internet migliore!